Buonasera, riguardando i testi di Elizabeth Cow, ho pensato che la collocazione sarebbe stata migliore se posta alla fine, perché è la scrittrice maggiormente riassuntiva nei confronti delle ragioni del corso fra le tante che ho pensato di proporre. Da un controllo fatto e con sorpresa dovuto accettare, si constata che è scomparsa. Non c'è nella Garzantina, non c'è nei quattro volumoni pompiani, dei personaggi, autori e delle opere, insomma non c'è da nessuna parte. Quindi l'abbiamo persa a tutti gli effetti. L'unica trazza che ho trovato è quella relativa alla riduzione cinematografica del Delfino Verde, che è sul Mereghetti e che dice che è uno dei film più brutti della storia del cinema. Gli assegna uno, che è il minimo del punteggio, e non si è accorto, o bontà sua, il Mereghetti o i suoi collaboratori, che di questo ponderoso volume, chi ha fatto il film si è occupato solo delle ultime 98 pagine, per esaltezza. Viene da dire quanti, fra gli scrittori dell'altro sesso, avuta la fama che un tempo ebbe lei, sono poi arrivati a questa dimenticanza, a questo oblio, a cui non so dare francamente per ora, ma ci penserò, ci lavorerò, nessunissimo significato. Già una decina d'anni fa, quando, richiesto da Eco di fare rinassere i Delfini Bonpiani, proposi i testi che volevo io, misi subito il Cavallino Bianco di Elisabeth Cout, e così posso offrire la mia posfazione, perché a tutti i libri io mettevo una posfazione, e ci sono diverse pagine dove spiego quello che pensavo di lei. In realtà, il Delfino Verde era molto bello per me, anche così poco rapportabile alla grandezza, alla vera grandezza, di Elisabeth Cout, perché era così perfetta la dimensione dell'impianto che ricavavano da far sì che venisse quasi in mente di recuperare il resto. È un libro memorabile, assolutamente memorabile. è tradotto da Fernanda Pivano, non so se mi spiego, che vuole tradurlo, davvero lei, ed eravamo alla fine della guerra, c'erano pochi soldi, e chissà, poveretta, quanto ci ha messo, e quanto poco ha guadagnato, però si sente che è la Pivano. È fatto così, ed è molto particolare, è ambientato nelle isole dell'arcipelago normanno, Gersi e Garnesi. Sono quelle rese famose da Victor Hugo, perché stava lì in esilio, altrimenti con Napoleon Leptie, Napoleone il piccolo, Napoleone III, sarebbe stato non in esilio, ma in galera. sono luoghi strani, perché sono molto indipendenti, si parla il francese, però c'è una forte presenza anche inglese, hanno una sorta di gendarmeria loro, costumi loro, strategie di vita loro, e lei racconta una serie di generazioni, finché effettivamente c'è una ragazza che fugge come emigrante in Nuova Zelanda, da cui il film. Ma siamo alla terza o quarta narrazione di quelle stupende che lo precedono. credo che avendo questa passione che ho per lei non sia sbagliato renderle omaggio attraverso un omaggio poetico. Ce ne sono un pochino da per tutte, sono programmatiche, servono a dire ho intenzione di raccontare così, ho intenzione di farci stare questi frammenti di vita. Questa è quella che precede il Delfino Verde. Tre profonde brame dell'Io, tre grandi espressioni dell'inquetezza umana che soltanto la verità mistica riesce a soddisfare pienamente. La prima è la brama che rende l'uomo pellegrino errante è il desiderio di uscire dal mondo normale in cerca di una casa perduta di una contrada migliore un Eldorado un Sarras una Sion celeste. La seconda è la brama del cuore per il cuore dell'anima per la sua compagna gemella che la rende innamorata la terza è la brama per la purezza della perfezione interiore che lo rende asseta e da ultimo santo. stessa bellezza c'è nel più bello dei tanti libri per ragazzi bravissimo l'editore Bonpiani in tempi cupi per noi di miseria del dopoguerra di fargli questa ricca edizione La Valle Meravigliosa questo l'ho letto più volte nelle varie quinte che ho avuto lo zodiaco il cervo il toro i celesti gemelli anche il cancro il segno del leone la bilancia è la vergine lo scorpione la capra il saggettario l'uomo che regge la brocca dell'acqua il pesce dalla coda luminosa tu ti avvolgi di luce come fosse un vestito e i cieli distendi come splendidi veli posi i raggi lucenti fino in fondo alle acque delle nubi corrusche tu sai fare il tuo cocchio ed anche sai vagare sulle ali del vento un libro che ha avuto una sorte diversa ma è scomparso anche lui è il castello sulla collina copertina si capisce subito il genio di Bruno Munari che sembra un grafismo puro ma anche un cancello che si apre esattamente come a un certo punto appare così alla protagonista e la poesia è scritta da lei stavolta e è bellissima riassume e dice che cos'è questo splendido romanzo su cui ci sofformeremo in termini proprio pedagogici per capire quali erano le intenzioni che qui sono particolarmente rese con efficacia la tradizione è di Bruno Oddera un altro dei grandi evidentemente come mi ha più volte spiegato Eco che della Bonpiani è stata una colonna da quando ci è entrato fino a sua morte è una scelta di Valentino Bonpiani quella di scegliere un traduttore professore un anglista di valore e così via dopo spiegherò cosa vuol dire in questa poesia che si chiama dedicato al castello profondamente celato nel cuore delle foreste stregato e vetusto lo scheletro di un castello ancora si leva diceva una leggenda eretto alto su una rupe nei boschi immoto e gelido profonde sono le ombre tenebrose della notte sotto il muraglione bispigliando piano sendono i fiocchi di neve e avvolgono i torrioni desolati in un immacolato manto pavido in me il mio cuore mancando si è spento io pure nei boschi sono immota afflitta dal dolore provata sola qui qui nelle ombre chi fu a sospirare la tra le mura merlate dove si apre la porta sono forse ombre nelle ombre a tessere le trame a ritroso sul telaio della sofferenza trascorsa con mani logore dal dolore ombre che piangono un mondo divenuto freddo e rigido di pena lamentando una volta di più le luci spente spente di nuovo la bellezza infranta e perduta i giovani massacrati solo il dolore ha vissuto qui per cent'anni e solo l'odio immortale lo so i pusillani i timori degli uomini solo il pianto delle donne le loro inutili lacrime non soltanto l'inverno regna in questo luogo stregato mentre le nubi fredde si squarciano sconfitte i raggi di sole ricamano gli alberi oscuri con la loro luce di diamante toccano il viso scavato della morte pietra con il colore con l'azzurro fuoco di tempi di primavera lontani eppur vivi il desiderio acceso di estati mai dimenticati speranze che aspirano per sempre coraggio imbattuto valore in fiamma l'incrollabile vittoria degli uomini che invocano cose sacre sulla loro forza né paura né odio né vergogna sono per loro vedo un balonar darmi alle pareti odo il rombo profondo della pugna il richiamo eccitante della tromba d'argento che squilla acuta sull'alte torre dell'immortale fortezza di Dio che gli edificò contro il male con l'amore umano deposto ai suoi piedi con il sudore degli uomini con il sangue fino all'ultima goccia versato poiché questa è la roccia che in eterno l'uomo difende la roccia dell'anima contro cui ogni male sperpera la sua furia in vano nella guerra senza fine e queste sono le fortificate mura che gli eroi calpestarono rapido alati di fiamma i piedi calzati di verità perché questa è la dimora di ogni vita è la dimora di Dio in alto in alto i cuori costanti la tromba squilla in alzateli alle mura radiore ai cieli imbevuti di luce che oltre la notte sorderà sempre il sole e qui sotto c'è qualcosa che bisogna spiegare se lei nasse all'inizio del secolo scorso e arriva a superare gli 80 anni vuol dire che appartiene pari pari a quella generazione che dovendo avere una adolescenza non l'ha avuta perché è cominciata la prima guerra mondiale dovendo avere una vita come ognuno si augura di avere un po' di gioia un po' di felicità e invece ci sono i 20 anni prima di che cosa di quell'altra guerra e dopo e dopo le memorie e il computo degli amici assenti delle amiche assente degli amici massacrati in Normandia o morti nei lager perché c'erano anche i lager dei soldati inglesi non solo quelli degli altri tipi di prigionie e quindi questa malinconia complessiva lei la descrive la rivendica e le rende alla malinconia anche l'unico onore che può renderla perché ci sono generazioni che hanno patito in questo modo vi faccio sentire come la rende lei cosa dà a questa caratteristica che io personalmente ritrovo anche adesso molto vicino cioè da pedagogista ottantenne sento che la sofferenza giovanile di oggi è perfino peggiore di quella raccontata da lei perché non ha il tipico bellissimo titolo della narrativa al femminile le parole per dirlo perché le parole per dirlo lei le ha trovate ma non è detto che tanti disastri tante sofferenze le abbiano davvero trovate un mio allievo ormai i miei allievi hanno la pensione loro quindi chiacchieriamo all'edicola questo lavorava a Lanza e guardando una locandina diciamo ma sai quando ci facevi quelle lezioni sul disastro dei giornali eri ottimista e raccontava la locandina come se fosse l'incontro di Alta o l'arrivo dei crociati il fatto che uno che aveva fatto il comandante dei vigili aveva perso una trattoria è certamente un fatto di un'importanza storica ma se uno lo filma così poi passano 40 anni ma Bologna non avevate proprio niente di meglio da dire ieri mattina che dire questo passaggio di straordinario livello io lo sapevo che il mio ragazzo ormai quasi 60 anni si metteva un po' a piangere se io e l'ha fatto infatti per questo disastro che vuol dire non trovare le parole e allora sentiamo invece come le trova lei ma forse il testo che è davvero quello che voglio leggere io non è questo risentirete fra un poco un recente titolo di un film di un film di adesso che vuol dire che Elisabeth aveva lo sguardo lunghissimo pochissime persone allora il castello sulla collina di Elisabeth Gau pochissime persone notarono la donna che sedeva al sole sulla panchina alla sommità della gradinata di fronte alla biblioteca libera con il rombo di traffico di Londra alle spalle e gli occhi fissi sulla tabella delle offerte di impiego non era apparissente era una di quelle donne indefinibili alle quali può essere presentato dieci volte senza per questo riconoscerli quando le incontri per la via non esisteva proprio nulla che facesse spicco nella signorina Brown nulla su cui si potesse per così dire far presa eppure si trattava di una donna graziosa con una figuretta snella una placida dignità che riuscivano attraenti le fatesse minute erano ben disegnate la pelle era chiara liscia senza rughe benché ella avesse 42 anni le labbra delicate sbocciavano in una piega dolce ferma gli occhi scuri dal taglio meraviglioso sotto le sopracciglia ritoccate si aprivano timidi e dolci come quelli di una cerbiatta i discapelli castani annodati con severità crocchia sulla nuca erano morbidi e lucenti senza una sola traccia di grigio e la possedeva tanta freschetta tanta serenità esteriore che ci si stupiva nel constatarla così poco vistosa ma la serena Brown non aveva mai voluto farsi notare era una di quelle persone che hanno il dono del mimetismo come un coniglio bianco pauroso nella neve dovunque andasse riusciva così bene a entrare a far parte dell'ambiente che nessuno più la vedeva questo dono del mimetismo era dovuto in parte alla timidezza della signorina Brown in parte al fatto che invariabilmente lo sfondo la pagava in parte infine al suo modo di vestirsi era schizzinosa le piaceva essere linda in ordine ma non aveva mai avuto denaro da spendere per i vestiti e pertanto già da molti anni si accontantava di adottare quello stile mascolino che va bene dovunque e non è mai fuori moda indossava un abito ad acca blu scuro consumato ma ben spazzolato che la modellava bene calze grigie scarpe nere ben allacciate portava un austero e semplice cappellino di paglia piazzato ben dritto sul cocustolo della piccola testa rotonda e nonostante la bellezza di quella giornata si era munita di un ombrello nero arrotolato alla perfezione nell'eventualità di un temporale che potesse scoppiare e rovinare il cappellino doveva avere infatti una gran cura dei cappellini le mani nei guanti grigi arrammendati in modo quasi invisibili erano placidamente posate sulla grande antiquata rigonfia borsetta di cuoio nero che ella aveva in grembo sedeva molto impettita sulla panchina di fronte alla biblioteca libera con lo strepito di longa alle spalle e forse per la prima volta in vita sua non le piaceva lo scenario dal quale era circondata per quanto tenesse gli occhi fissi sulla tabella con il povero elenco di offerte di impiego che non facevano affatto al caso suo non la vedeva più perché non stava vedendo nulla poiché la signorina Brown si trovava nella morsa della paura non si trattava semplicemente di apprezzione o di ansia ma di paura vera paura pura semplice orribile paura benché il suo aspetto fosse così sereno mentre sedeva lì al sole aveva il corpo gelido e le riusciva difficile respirare eppure non mi trovo in una situazione peggiore di quella di molte altre persone disse a se stessa ho perduto la casa i mezzi di sostentamento ma la stessa cosa è accaduta a moltissimi altri quello che sta capitando a me questa specie di baratro che mi si spalanca sotto i piedi capita ora al mondo intero non sono sola non sono sola non sono sola ma quel che le andava ripetendo non la convinceva affatto la perdita di tutto ciò che aveva avuto fino a quel momento la faceva sentire sperduta come se fosse l'unica creatura umana esistente al mondo e quale mondo era il mese di giugno del 1940 ci siamo arrivati con un dosaggio strepitoso la collocata da una situazione di normalità a una di orrore perché non può far altro che così ma lo straordinario talento ha ragione anche di questa cosa perché se andiamo avanti di venti pagine troviamo questa pagina la bambina più grandicella si sforzava di parlare e faceva del suo meglio per costringere le parole a uscire dalla gola che il terrore dell'ignoto nella cui stretta era venuta a trovarsi aveva disseccato di grazie alla signora mormorò infine in un rauco bisbiglio tutta la voce la siatele da tanta disperazione ma la più piccola non pensava ad altro che a coprire i ribaci il muso spellacchiato di un animaletto di stoffa non importa disse con dolcezza la signorina Brown dove andate cara in campagna di nuovo il bisbiglio la mamma non è con voi domandò la signorina Brown ma la domanda fu causa di tanto dolore che la bambina riuscì soltanto a scuotere la testa a mutolita e la signorina Brown si voltò maledicendosi per la propria stupidità non poteva far nulla meglio lasciarle sole con il cuore stretto dal dolore si portò ciecamente all'estremità opposta del marciapiede poi ecco risuonare un fischio attraverso un velo di lacrime vide che il treno si muoveva e incominciò a correre urlò contro qualcuno riprese la corsa troppo tardi stava per rinunciare quando lo sportello di un vagone di prima classe si aprì e una mano si protese verso di lei presto disse una voce salite qui ho il biglietto di terza ansimò la signorina Brown non importa disse la voce la voce era così autoritaria che le mise mano nella mano offerta fu sollevata con un unico facile movimento sul treno ormai in rapida corsa ed è posta per la prima volta in vita sua sul morbido sedile di uno scompartimento di prima classe scusatemi se sono intervenuto disse la voce sembravate così disperata disperata disse la signorina Brown le mani premute sull'imbuttitura del sedile in un gesto inconsio di piacere infantile che fece nassere un sorriso sul volto dell'uomo che era di fronte a lei non mi disperavo per aver perduto il treno ma per i bambini guardavo i bambini ce ne sono tanti la cena è senz'altro indubbiamente troppo affollata disse l'uomo questa sarà una delle difficoltà più gravi che dovremmo superare comunque anche se troppo gremita la cena è pronta per uno dei più grandi drammi della storia non pare anche a voi se si pare anche a me rispose la signorina Brown e poi ancora torturata dal pensiero dei bambini proruppe nella domanda che tutti ormai si ponevano vincendevolmente ce la caveremo e lo sconosciuto diede la risposta consueta quella che davano tutti Dunkirk bisogna riprendere il filo di questa tremenda bellissima cena allora i generali di Hitler le SS i Panzerfaust in quieta passeggiata dalle argonne alla Normandia ci ha messo 15 giorni meno che a fare un weekend l'esercito francese bye bye è esattamente quello che si temeva l'Inghilterra è la prossima destinataria delle attenzioni del micidiale esercito del Terzo Reich però ha già dato una botta a Dunkirk si è portata a casa tutti i ragazzi non ne assiandogli nessuno inglesi che erano lì per aiutare i francesi ha dato due botte in una prima francesi non ve li lassiamo tanto a voi non servono a niente sbang due adesso sono tornati a casa e sono vivi e vedrete quanto lo sono tutto questo però non è detto come lo dico io che devo fornire ermeneutica in senso pedagogico è detto in poesia lei ha perso tutto la casa il lavoro non ha più niente è lì che guata per la stazione non è mai salita in una prima classe un signore la chiappa perché perché è finito tutto è finita anche la disuguaglianza bisogna sparare sui tedeschi non bisogna fare nient'altro quindi non ci sono più le terze classi il signore poi si rivelerà un nobile che la nominerà istitutrice in un severo castello scozzese e lei combatterà la sua guerra lì a far che cosa a eternare la memoria che è quella che salva perché se non hai memoria non ti batti non fai nulla non conti nulla tutto questo è detto in maniera che io definirei femminile in una narrativa maschile avremmo già saputo quanti morti a Dunkirk quanti invece vivi quanti tedeschi sbagliarono direzione e non poterono impedire lo sbarro insomma tutte queste cose qui abbiamo qui una sola dimensione quella delle sensazioni quella del cogliere la bambina che mordicchia l'animaletto perché perché è uno dei milioni di orfani della dell'inizio della guerra in Inghilterra con i bombardamenti tedeschi degli Stukas e oltre a questo c'è anche questo senso di fortezza assediata di disperazione di niente conta più niente ma c'è Dunkirk lì ce l'abbiamo fatta versione al femminile ne conoscerò una quarantina al maschile che sono tutti uguali c'era però stato a Dunkirk questo Dunkirk si vola dentro a dirti vada che ce l'hai una parola di fiducia e di speranza a Dunkirk ce l'abbiamo fatta non fa parlare Churchill non lo cita col tremendo discorso discorso programmatico rimasto unico nella storia di tutti i primi ministri di tutte le democrazie ho per voi un programma sudore sangue morte lacrime questo è il mio programma con cittadini che voleva dire poche storie lei non glielo mette però in un incontro in un autobus sentito il programma del primo ministro è quello che ci vuole temo non ci mette altro allora ce l'abbiamo in termini di una tale bellezza di un tale valore che viene la curiosità di dire ma come fa per i ragazzi una così ovviamente lei sceglie una bambina come protagonista e questa bambina ha uno strano programma di vita vive in una città inglese portuale moltissime navi e qualcuno le ha rivelato che ci sono quelle vive e quelle morte quella morta è una nave incompiuta che sta lì giace bellissima perché è l'intelaiatura è come una meravigliosa scultura dei tempi post poppa avevano queste intelaiature costruite così la bambina decide che troverà la valle meravigliosa dove ci sono i legni per far rivivere le navi morte questo il romanzo incredibile di Elizabeth God e adesso che ho detto di che si tratta dò la parola a lei con lei bisogna stare molto attenti avere sempre i testi vicini i vocabolari eccetera perché è di una tale cultura di una tale verve di una tale filosofica intelligenza che se non entri in rapporto con lei non ce la fai quindi spiego perché lo so non perché lei me lo dica e neanche perché me lo dica la Bonpiani la bambina si chiama Tabita e cosa vuol dire è negli atti degli apostoli è una ragazza malata che muore è fatta rivivere da San Pietro dobbiamo per ognuno dobbiamo per ognuno dei segnali mandati riflettere e impadronircene perché lei non siupa neanche una riga in tutto il suo narrare c'è una costruzione complicatissima uno può dire quando lo leggevi in una quinta beh ci sono due modi per leggerlo in una quinta non lo so adesso io parlo della metà degli anni sessanta io usavo fare risuonare e poi spiegare c'è anche una possibilità a me più cara risuonare far disegnare e poi spiegare vedere una sequenza cosa succede se l'illustrazione non ha ricevuto il sussidio ermeneutico benché non lo sapesse Giobbe era viramente un grande artista e fino ad oggi Tabita non l'aveva mai visto commettere un errore essa si guardò intorno questa sarà una bellissima nave mormorò no è una nave morta disse Giobbe con un tale accento di disperazione che Tabita gli si accostò e gli prese una mano per cinque buoni minuti il vecchio e la bambina stettero in silenzio tenendosi per mano senza mai muoversi e allora Tabita si rese conto con sgomento che Giobbe aveva ragione le belle linee della nave erano fredde come se invece di essere di legno fossero state di ferro o di acciaio e nessun alito di vita vi alleggiava questo era molto strano per una nave costruita lì nel Lord Giobbe l'aveva constatato solo due o tre volte Tabita mai secondo la loro esperienza fin dal principio una nave aveva una sua propria vita che si comunicava agli uomini che la costruivano lo spirito della nave parlava loro ed essi capivano quello che voleva una credenza doveva essere messa in un certo posto e non altrove e anche una scritta incisa dove andava in un posto stabilito cercando di accontentarla essi venivano a conoscere ad amare la nave e le davano il loro meglio il giorno che essa li lasciava e se ne andava era sempre per loro tutti un giorno di dolore ma anche di orgoglio perché non vive Job sussurrò Tabita perché non c'è più nessuno che si interessi di lei rispose Job ci è stata ordinata dalla East India Company ma nessuno si è mai fatto vivo per darle un'occhiata non hanno pagato capisci doveva essere finanziata da un ricco signore di Londra ritiratosi dalla marina cui era venuto il capriccio di diventarne il capitano ma è morto improvvisamente non ha lasciato un soldo per pagare la nave aveva perduto tutto al gioco la compagnia allora ha disdetto l'ordinazione per la nave e signor Peregrine furibondo ha dato ordine di distruggerla Tabitha dette un'esclamazione di dolore e di amore questa nave non era che uno scheletro nessuno la riclamava eppure essa era ancora una nave una nave una nave fin dal primo momento in cui la prima trava impostata demolirla e distruggerla adesso era un assassino bello e buono benché essa non fosse viva oppure lo era parve infatti a Tabitha che un brivido passasse attraverso le tavole sotto i suoi piedi una specie di trento come un sorgere di linfa e anche Job dovuto averlo sentito perché tutto un tratto le strinse la mano così forte da farle male mi è venuto in mente di riflettere su alcuni punti questo è un immaginario assolutamente fuori dalle regole dalle linee infatti delle 22 storie della letteratura per l'infanzia che possiedo nate fra il 35 e 80 una sola nomina Elizabeth per dire dal guardarsi bene dal dare ai bambini in questo libro noioso e inutile perfetto assolutamente ma cosa bisogna dire bisogna fare questa riflessione la sto vedendo e non ho più meccanismi di controllo li avevo a me non piaceva diabolica ma io come alunno avevo Massimo Iosaghini il quale diceva perché faceva sempre così il numero 15 il 18 il 26 vado a vedere quelli erano quelli disegnati da Zaniboni un grandissimo disegnatore è diventato architetto creatore di un personaggio stupendo il capitano si la vengo era sempre a spiegarmi come si dovevano leggere i fumetti per quel poco che secondo lui io capivo un po' succede al momento tutte le volte che vedo la fumetologia di oggi mi sembra temibile per molti versi noiosa per altri e non più disegnata purtroppo tutta digitalizzata quindi da vomitare solo a vederla però per esempio la Bonelli insieme a Tex ha messo niente meno in commercio un mensile che seguo da otto mesi che si svolge nella Roma di Cavaradossi nella Roma sinistra e cupa tra settecento ottocento con me che sono andati a scovare uno spazio così strano non so rispondere non so neanche rispondere perché in un episodio della serie Orfani titolo che essendo anch'io della categoria perso la mamma quando avevo cinque anni mi attrae subito e infatti puntualmente questa banda di siagurati intergalattici distrugge una città con due grandi torri un Nettuno in una piazza chissà perché gli è venuto questi orfanelli spaziali la voglia di distruggere Bologna capiremo finora i mezzi non li ho cosa bisogna fare a poter presentare un libro che certamente non appartiene né all'immaginario corrente questo qui che è un po' abborracciato un po' tentato di descrivere neanche a quell'altro neanche ai nostri presupposti ho un unico consiglio dare seguire lei andare dietro fino al momento in cui si sente proprio che sei gremito questo fatto della gremitura domina questo corso perché è molto raro nella letteratura al maschile e totalizzante in quella al femminile si vede molto bene che da Agatha Christie a Cristina per Cotto c'è la voglia di farsi leggere non di far sconti però perché qui non ce ne sono è una fascinazione molto strana molto particolare ma appunto se ci si pensa bene è la fascinazione delle fiabe perché certamente Tabita a partire dal nome è un personaggio che ha preso le distanze dagli altri personaggi è cuginetta di Alice non lo è è parente di Oliver Twista nemmeno di quello a chi potremmo in qualche modo paragonarla e dobbiamo solo cedere all'idea che si è inventata una letteratura per l'infanzia di tipo nuovo dove l'unica cosa che può attrarre è che la bambina è rigidamente lei la protagonista tutti gli altri quasi non contano e quindi c'è una doppia effrazione che può attrarre i lettori perché bambina bambino quindi situazione strana perché di solito non è così e conseguentemente l'idea di andare a vedere cosa sta succedendo qui certo c'è qualche cosa che ci riguarda tutti si trovavano adesso nel bellissimo giardinetto dietro la casa del capo costruttore il giardino pieno di fiori era circoscritto da siepi di tasso ben tosate ed aveva viali ben pavimentati fra i letti di violaciocche e di miosotidi le api ronzavano fra le violaciocche il cui forte profumo si rinfondeva col vento in un angolo delle siepi di tasso era situato il canile di Mignon di modo che la signora Pergrin poteva sorvegliarla dalla finestra del salotto ma non si poteva chiamarlo un canile era una bella piccola casetta con un tetto di tegolo ricoperto di caprifoglio Mignon era ridento attormentata passando essi videro il suo naso nero tra le due zampe anteriori attraverso la porticina aperta davanti a loro in fondo a un viale pavimentato era la libreria del signor Peregrin ed essi potevano vederlo seduto alla scrioscrivania accanto alla finestra egli era un po' sordo e non aveva sentito il rumore della porticina potevano osservarlo a loro agio mentre percorrevano il viale un po' lentamente perché anche Tabita aveva paura adesso scorgendo la parrucca del signor Peregrin nel cantiere nulla ispirava più rispetto della parrucca del signor Peregrin era quasi come una persona il signor Peregrin era uno di quegli uomini attempati che non credono nell'utilità dei cambiamenti e così si vestiva ancora come quando era giovane panciotto di seta ricami sopravito a coda maniche di merletto calzoni corti fino al ginocchio calze di seta scarpe a fibbia e poi la parrucca questa era bianca e si sollevava a grande altezza sulla testa ricadendo in due grossi riccioli fino al colletto della giacca quando il signor Peregrin usciva di casa smetteva in testa un enorme tricorno con un'altissima cupola posata sui riccioli della parrucca ma anche senza questo imponente monumento sulla testa il signor Peregrin incuteva ugualmente rispetto perché era alto magro elegante con un bel naso aquilino e due chiari occhi grigi sotto le sopracciglia scure finamente arcuate i suoi occhi sapevano mandar fiamme le sue sopracciglia potevano corrugarsi minacciosamente quando era seccato e questo gli succedeva spesso a causa della gotta però malgrado la gotta non aveva il naso rosso e questa era una gran consolazione per lui perché egli aveva molto dignità e voleva avere un bel aspetto anche quando soffriva oggi aveva un aspetto particolarmente piacevole perché indossava la sua giacca color gelso con il colletto di velluto sopra un panciotto di seta color pesca ma ma già da lontano appariva irritabile perché aveva le sopracciglia corrugate e managgiava la penna d'oca così selvaggiamente che la carta strideva protestando stava proprio scrivendo a quelli dell'Est India company dicendo loro francamente quello che pensava del loro controordine per la nave era un gran maestro nell'arte di ingiuriare elegantemente ed era così assorbito in questo compito che non si accorse della presenza di Tabita e di Job finché le loro ombre non cadero sulla carta facendo fermare la penna solo a loro sollevò la testa e li vide quella birichina di Tabita e il vecchio Job nel suo multicolore abito rapessato nel suo giardino privato arretti davanti alla finestra della sua biblioteca la sua collera fu tale da non permettergli di dire una sola parola le sue sopracciglia erano già corrugate non potevano corrugarsi ulteriormente ma i suoi occhi mandavano lampi e pareva che i suoi pugni chiusi stringessero ognuno un fulmine poi finalmente poter parlare ma per la mia parrucca cominciò per la balena per il pescane per le seppie ma non poté continuare nell'innumerazione delle cose sulle quali giurava perché Job si era tolto il cappello e Tabita aveva steso gentilmente la mano e posato il suo mazzo di primule sulla lettera destinata alla Est India Company e gli diede un'occhiata alle primule le sue mani gli caddero lungo i fianchi non erano che delle primule ma ognuna ad esse sembrava una coppa piena di luce e il loro profumo gli faceva ripensare a tutte le primavere della sua lontana giovinessa alzò gli occhi e vide Job che se ne stava lì tutto umle col vecchio cappello aggrinzito contro il petto il vecchio era calvo come un uovo e pareva avesse cent'anni per quanti anni aveva lavorato nel cantiere pensò il signor Peregrin più di lui stesso in ogni caso perché Job era molto più vecchio eppure erano unicati insieme costruendo bastimenti a questo pensiero le soprassiglie si distesero e gli occhi sorrisero entrate voi due disse scavalcarono il basso davanzale e si tenero in piedi davanti al capocostruttore Job girando nervosamente il cappello fra le mani Tabita invece calma e sicura di sé ora che aveva visto quel sorriso negli occhi del signor Peregrin signora S disse non potete distruggere quella neve essa ha appena cominciato orora a vivere davvero disse seccamente il signor Peregrin si confermò Tabita Job e io l'amiamo è per questo che lei vive porbacco disse il signor Peregrin essa è più viva gracchione improvvisamente Job di qualunque altra nave io abbia mai visto oh eslamò il signor Peregrin signore scongiurò Tabita voi non potete lasciare morire adesso è impossibile e chi pagherà per essa domandò il signor Peregrin voi avete molto denaro alla banca signore insinuò Tabita davvero disse il signor Peregrin e giunse di due mani puntando verso di loro il suo lungo naso in modo veramente sconcertante ma Tabita non si turbò tutti gli uomini dell'Erd hanno dei risparmi messi da parte continuò con ardore nella calce o nascosti nei buchi nella cappa del cammino ora che la nave è viva lavoreranno senza paga per finirla ma lo faranno davvero disse il signor Peregrin e chi sarà di Grecia il proprietario della nave l'Ard risponde Tabita ma allora chi è l'Ard voi io Job anche il nostro paroco Monsignor Redfern il dottor Eppolso e l'avvocato Whitebit tutti noi insomma il pureta vita mi fa venire in mente questa autrice collocata nell'oggi nell'oggi della non lettura con un libro definito per ragazzi ribadito da me qualche anno fa il cavallino bianco ha avuto anche una trasposizione nelle edizioni del Corriere della Sera che in realtà non è andato male che la battaglia per la lettura dovrebbe avere in mente un primo presupposto non si può più se mai se potuto ma comunque adesso no darglieli e basta bisogna essere persuari che ci vuole la lettura dell'insegnante o di qualcuno ma dubito molto che la valle meravigliosa da solo sfondi col pubblico infantile che legge la serie orfani del mio amico Bonelli che non c'è più che è morto diversi anni fa se no la serie orfani sarebbe rimasta in tipografia suppongo visto che lo conoscevo molto bene quindi la voce ed è indispensabile che questo tipo di libri funzionino è niccianamente indispensabile perché perché se c'è un momento in cui niccianamente o anche pertinianamente il mio maestro abbiamo bisogno dell'inattuale è questo l'inregimentazione non è mai stata così bieca così livida così monotona così totalizzante questi sono libri questa autrice queste pagine che rompono gli schemi bisogna però se si capita nei confronti di una narrativa di questo genere farsene carico davvero e questa sarà una svolta che porterà probabilmente alla rendersi vero dell'ipotesi graffiante con cui finisse un celeberrimo film di fantasienza Fahrenheit 451 di Truffaut dove i libri sopravvivono ma sopravvivono in una persona che si fa carico di inverarli di proporli alla base di questo corso c'è anche questa dimensione perché faccio notare una cosa curiosa da diversi anni sono le prese con un libro che non riesco a portare avanti è un libro di testo dedicato alla catasta di libri per ragazzi che non hanno avuto successo che sono rimasti ai margini i libri che nessuno ha voluto io li ho collezionati per la loro bruttezza perché non piacciono e siccome in uno di questi c'è una cosa geniale c'è un babbo che non vuole comprare le calda arroste perché non c'ha neanche i soldi per comprare le calda arroste è proprio come sotto i portici bolognesi di un tempo tanto è vero che le andavo a disegnare ci sono le calda arrostaie e il babbo trova questa bellissima patacca da rifilare al figliolo non si può avvicinarsi perché quelle sono fatte decadute erano fatte ma devono aver combinato qualche cosa che non va e allora sono diventate fatte decadute il mio libro se sopravviverò fino a finirlo perché diamo avanti ma mi vengono sempre cose da metterci si chiamerà le fatte decadute sempre da la valle meravigliosa di Elizabeth si sedette sopra una pietra sulle rive del russello come aveva fatto Job e pianse finché non ebbe più lacrime da versare allora si sentì molto meglio ebbe voglia di soffiarsi il naso cercò il fazzoletto nella tasca del suo grembiule lo sentì duro e pesante e quando lo svolse quattro lumache le caddero in grembo oh esclamò poverine se avessi potuto entrare voi sareste venute con me e ora non potete quanto mi dispiace le lumache apparivano molto avvilite ma senza rancore lasciarono il suo grembo e si sedettero sulla pietra accanto a lei quasi per farle compagnia erano fate decadute esiliate dal paese incantato ed anche essa era esiliata siamo in cinque adesso mormorò e trovò un gran conforto nella loro presenza si ricordò che aveva quindici anni ma non si sentiva affatto invecchiata e guardandosi non si trovò per nulla cresciuta la sola differenza di cui si accorse fu di sentire dentro di sé una certa pesantezza come se quei cinque anni di Giulia le fossero rimaste sullo stomaco anche le sembrò che intorno a lei non vi fosse più lo sprondore che c'era prima allora non c'è dubbio assolutamente che come ha ragione la immensa pivano nel tradurla straordinariamente beh vado a lodare la pivano è un delitto solo tentarsi insomma è in tutto degno della pivano è lungo come è lungo e ha meritato quel film io mi ricordo che era bellissimo ma siccome c'era Donna Reed non credo di aver capito Donna Reed ebbe l'Oscar tre anni dopo per Da qui all'eternità faceva ma allora non si poteva dire la prostituta in un casino e siccome c'era tutta la censura democristiana che tagliuzzava continuamente non si capiva un accidente di cosa fosse quel posto dove il soldato privuita andava fino a produrre delle incredibili comicità perché dove sei andato là lei ti aspetta quando non ha clienti ma aspetta clienti eh beh le bibite no le bibite e andava avanti in questo modo spassosissimo fino alla tragedia e al campo di identità interessantissimo perché è perché arrivano i giapponesi e sbaraccano tutto ai 14 dicembre del 1941 comincia anche per loro la guerra allora lui è da lei e farebbe molto cosa saggia se ne stesse nascosto perché nel duello col sergente trippa si è preso una pugnalata nella pancia ma lui è un soldato degli USA e deve raggiungere il suo reggimento perché la guerra è cominciata quindi se ne esse malgrado lei lo voglia trattenere in questo strano posto dove si paga moltissimo per un vermut è sconsigliabilissimo andarci perché la ragazza che dice ha bevuto un vermut 8 dollari con 8 dollari si compra la distilleria dove lo fanno ma lei ha messo in conto anche i suoi servizi e arranca che ti arranca finché vicino alla caserma una sentinella lo spara e lo ammassa il cadavere di Prewitt che è Montgomery Cliff Oscar anche a lui resta disteso finché arriva il suo sergente maggiore Bart Lancaster Oscar anche a lui e gli ufficiali dicono era dei vostri sergente era dei miei un buon soldato il migliore che abbia conosciuto ma anche il più testone saperitelo voi pensateci voi la cena cambia c'è una cosa che nel libro non c'è è inventata c'è l'amante del sergente e la prostituta del casino che tornano verso gli stessi su una nave dobbiamo mandare a largo una corolla perché così ritorneremo lo fanno siete del sud anche voi? sì fidanzata di un certo la signora sa benissimo tutto Robert Louis Prewitt una nobile famiglia sudista gli ha dato il nome del generale Robert Louis Prewitt il capo dell'armata sudista fine tutte balle nel libro non ci sono dove vado a parare con queste riflessioni lei lei sta potentemente a questo gioco lei appartiene a quella tristissima generazione che ha avuto la giovinezza adolescenza deturpata dalle trincee delle argonne quei vent'anni tra disoccupazione e fame Dunkerque e la nuova guerra ma Ressero e questo si sente potentemente temo di dover dire che ne abbiamo molto bisogno oggi e che il suo trepitoso segnale è di quelli che non vanno buttati via e sono gratissimo di come ha descritto Jersey Guernsey e tutta questa strana dimensione e dice una cosa bella all'inizio è di quelle persone che ti viene fatto di pensare di averle conosciute tanto si sente genio delicatezza cori la parte finale del mio romanzo si svolge in Novo Zelanda non ci sono mai stata dichiaro di aver letto i seguenti libri di geografia ma il lettore se perdoni se ci ho messo qualcosa anche molto di fantasia in effetti non credo che sia fedelissima ai trattati sulla Nuova Zelanda per dare un saggio del libro che propongo la metto proprio nelle migliori condizioni è la descrizione delle isole dell'arcipelago normanno fatta al suo livello la baia era più lontana di quanto ella pensasse e più ripida nella rupe di quanto si aspettasse aveva la forma di un ferro di cavallo e mentre ella correva tra i grandi scogli che la difendevano alla stretta estremità comprese perché quella piccola baia era pericolosa le tracce dell'alta marea sulle rocce giungevano molto più su del suo capo quando fu nella baia con le grandi rupe torreggianti sopra di lei si sentì sola come se l'unico essere umano vivo sull'isola fosse lei ma era una piacevole specie di solitudine non quella che si prova quando si è rispinti da qualcuno ma quella che si prova quando si vuole restare soli quella che si prova quando più che dall'allontanarsi dalle creature umane si è consapevoli dal fatto di essere in ascolto delle voci e dei passi delle creature fatate che si stanno avvicinando cordiali creature fatate tutta la baia era animata da una placida cordialità ma da prima Margherita fu troppo impressionata dalla bellezza di questo incantevole luogo popolato solo dagli spiriti per muoversi o per toccarlo non poté che restare immobili e respirare guardandosi intorno la baia era piccolissima gli scogli così alti che pareva che loro cimerocciose dovessero toccare il cielo e la luce che splendeva da occidente attraverso la stretta apertura del ferro di cavallo giungeva come un diluvio in una caverna Margherita dovete roversiare il capo per vedere la massa grigia del convento lassù così in alto pareva calata dal cielo più che costruita sulla terra con la Madonna nella nicchia e sotto di essa la porta chiusa che dava su una specie di stretta mensola nella rupe ricoperta da un tappeto di erba verde la croix de fait dove si diceva le fate banchettassero intorno a una roccia piatta nei pleni luni era sulla riva sinistra della baia e la stretta apertura era mezzo bloccata da un masso coperto di alghe e verdi quasi tutto il fondo della baia era coperto di stottile sabbia argente e bei sassolini color dell'opale e gli scogli erano drappeggiati di alghe di un cupo bruno violetto dove le poffe erano colme di attinie parve a Margherita che tutti i ciottoli avessero grasse facce sorridenti e le attini avessero occhi pazzi sui loro falpalà all'estremità della baia la sabbia saliva in un'insenatura nella rupe quasi una seconda piccola baia nella quale il mare non giungeva e qui era il tappeto di conchigliette colorate come il tappeto di fiori dei boschi a primavera e tutte le conchiglie avevano la bocca e tutte cantavano e le loro miriadi di boccette facevano una musica che si udiva e non si udiva come il suono di campane continuamente respinto dal vento non venera una più grande dell'unghia di un bimbo e alcune non erano più grosse di una testa di spillo ma avevano tutte forme così complicate e perfette come se ciascuna fosse un mondo a sé alcune avevano la bella forma di una canocchia coperta di lana affusolata fino a finire in una punta sottile altre erano come petali di rosa delicatamente incavati alcuni erano come berretti di folletti altre come gocce di rugiada e ogni coppia o spirale aveva la sua perfetta venatura di irradiazioni lieve come piume tutte di una grazia perfetta tracciate da un pennello che non conosceva esitazioni e le loro pallide tinte ai fiori erano varie come le forme limone ravvivato da rosa lampone grigio torto rastriato da madreperla ametista pallido e scosparso da lampi verdi zafferano e turquesi rosa arancione fumoso chiazzato di pallido gruno caldo come il petto di un uccellino non ve ne erano due uguali beh avevo un collega alla Sorbonne che aveva la mia stessa cattedra istuare della literatura pur pur lampone e delle volte mi chiamava florentan perché diceva che ero falso come macchiavelli ma più facilmente mi diceva levantan perché ero levantino comunque suddolo e mi ha fatto questo gentile regalo innamorato delle isole jersey jersey gernesi e dei libri che ti ha scritto victor hugo andislanda con i compracicos che comprano e tagliano ai bambini di sopra perché ridano sempre l'uomo che ride infatti non pago di questo l'infame zampero durante una pausa la pranzo della fiera mi raccontò che le SS a gernesi avevano fatto un centro tortura particolarmente ferato e i soldati francesi della liberazione cadevano svenuti quando entravano dentro mi sembra che lei potesse saperlo e che non ce l'ha messo perché costruisse le cose in un certo modo è chiaro che raccomando di ritrovarla a tutti gli effetti e di accettare questa sfida perché ormai visto cosa c'è sul mercato di letteratura per l'infanzia cioè quelle cosucce che non sanno di niente la valle meravigliosa ha molto molto da dire ancora adesso torno a dire che non me l'aspettavo così ritrovandola sono letture molto vecchie le mie sono amori che io temo di non vedere i consacrati niente affatto quello per Elisabeth Gauss è addirittura cresciuto me lo dicono alcuni ma sono tutte grandi che siano 25 grandi iscrittrici vorrei vedere si arriva pomodamente anche a 250 quindi è ovvio che sono tutte grandi sono grandi in modo differente però qualcosa in comune ce l'hanno è qualcosa che è femminile e non è maschile sono tutte come lei discoste sono tutte come se fossero andate in luoghi dove sono stati altri chi può avere il coraggio dopo aver letto l'uomo che ride che è anche più grosso di questo di scrivere un libro ambientato lì a Guernsey Elisabeth ci ha voluto provare a Zarderock e il Delfino Verde è molto più bello dell'uomo che ride non è più bello dei miserabili il quale non si svolge a Guernsey però ma è più bello dell'uomo che ride ed è un libro che fa pensare con sgomento ai libri del presente perché è complicatissimo tortuoso sono tante generazioni per arrivare a quella che va alla Nuova Zerlanda ci sono quattro spazi generazionali tutti definiti da problemi da temi da fatti la Pivano si comporta esattamente da Pivano e questo bisogna finalmente anche dirlo perché qui dietro c'è non una traduttrice ma una grandissima intellettuale che si è innamorata del libro non si spiega altrimenti finisco con la Pivano prima di passare alle illustrazioni quando le chiedero finalmente di parlare degli scrittori che traduceva immensamente bene molti del presente lo sanno intitolò il libro così dedicato che li aveva conosciuti mostri degli anni venti mostri degli anni venti molto femminile anche quello aveva bevuto con Hemingway scherzato con Steinbeck riso con Faulkner ma non si dava arie mostri degli anni venti il mostro più mostro era Francis Cozzi Derel la sua traduzione dell'ultima nuova volta che vi di Parigi non sono mai riuscito a leggere la stanza piange ha fatto un capolavoro di traduzione anche col Delfino Verde spererei che non sparisse questa grandissima sconosciuta e ribadisco che mi piacerebbe molto che avesse una rinnovata vita forse possiamo provare a dargliela noi alla valle meravigliosa tanto stiamo combinando certe cose le immagini di Blanche Fischer Wright meritano una sorta proprio così di inchino perché è una caposcuola sono talmente belle talmente definite stilisticamente che questi inizi del novecento a cavallo della prima guerra mondiale un po' prima un po' dopo oggi qualcuno tenta di riesplorarli perché si tratta come vedrete di una bravura di una complessità stilistica e di un rigore che fanno appunto pensare ad Elisabeth Gaut forse un poco di ripensamento al rigore dello stile così presente in Elisabeth nelle cialtronerie del non stilismo attuale è da riversare anche nella opera di questa straordinaria illustratrice che a me è sempre sembrata unica quando ne ho parlato in guardare le figure ormai quasi 50 anni fa perché è stato edito nel 72 ma è stato scritto molto prima avevo in mente questa stessa cosa che adesso vedrete ecco non le si possono dare propriamente delle ascendenze perché è talmente originale è talmente diversa è talmente sempre se stessa con questo stile che ha riverberi in ogni componente dal bicchiere al fumo che sale dal pasticcio dalla corona del re alla molto esatta anche in dimensione storica vetrata che si vede e esattissima per quello che attiene alle pitture e ai disegni anche che restano d'epoca la tavola passapanca dove si svolge il banchetto ecco è successa questa magia la grande inluttatrice deve avere letto trattati relativi a quello che fu per molta parte dell'ottocento il ritorno al medioevo deve aver letto Walter Scott deve essersi entusiasmata per i seguaci di Scott anche quelli americani come Washington River per esempio però poi quando passa a disegnare da un corpo più spaziato una dimensione meno medievalizzante più ariosa più aperta si noti che il manto non ha sfumature si noti anzi l'assenza delle sfumature che tutto sia in un piano di visività molto solare con un rapporto molto stretto molto conseguenziale tra i contorni che devono essere invece straordinari perentori perché non ci mette altro e l'insieme della tavola narrativamente parlando perché è una tavola che racconta e così se guardiamo il primo piano della bambina dai capelli rossi sulla destra e le scarpine le case che sono in prospettiva l'unico cappello che si vede in alto a sinistra la foggia dei capelli del ragazzino sulla sinistra vediamo che c'è un impasto calamoroso tra la possibilità le scarpe della bambina di un presente e una medievalizzazione quasi più ironica quasi più festosa quasi più giocosa che non strettamente storica anche se il profilo del ragazzino è esattamente quello dei paggetti nei nostri pittori rinassimentali insomma è troppo grande per mescolarsi a suggestioni a suggerimenti dice la sua perché questo stile senza sfumature è strepitoso ed è difficilissimo e quindi siamo di fronte a una strada un percorso qualcuno mi sembra lo sta riguardando nella dimensione del molto contorno niente sfumature fra i contemporaneissimi c'è qualcuno che sta andando per questa strada e qui invece come deve essere la contemporaneità o quasi contemporaneità perché è la generazione precedente alla sua quindi cappello della signora del cappello grigio tipico di età vittoriana così come la tenuta complessiva le scarpine che si vedono e molto 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 il cilindro del signore perfetta la tenuta dalle scarpine di vernice ai pantaloncini che superano ginocchio del bambino sulla sinistra perché non dà sfumature nessuna in nessun modo perché c'era una corrente a stampa nata negli Stati Uniti ai tempi della nascita del fumetto con The Yellow Kid che pretendeva di agire senza sfumature per essere oniricamente più presente nella dimensione del sogno collettivo dei lettori era quindi una scelta consapevole che adotteranno i grandi disegnatori in particolare Attilio Mussino e Antonio Rubino i creatori del Corriere dei Piccoli o anche a Bologna Gabriele Galantara è qualche cosa che va studiato molto attentamente perché chi fra i presenti ama disegnare capisce che disegnare senza sfumature è rischiosissimo le sfumature aiutano coprono i pasticci rendono ipocritamente abile ciò che abile non è ma qui bisogna avere una mano terrificante per fare un carpolavoro di questo genere e questo è un molto impegnativo saggio di pedagogia perché la dimensione ludica di queste generazioni di bambini qui raccontata con il maschietto eternamente vincitore perché i soldatini sono qualche cosa di terrificante hanno un'emblematica possente e la bambina deve adeguarsi trovo strepitoso sul piano proprio del valore grafico di questa splendida tavola l'elemento giapponista assegnato alla parte bianca con i rettangoli che dà una luminosità una spaziatura e anche una connotazione nel senso che la generazione che vivrà nella nursery come questa deciderà lei quali libri vorrà leggere e entra nella letteratura per l'infanzia come generazione che ambisse ad avere Giannino Stoppani e non un essere inventato dagli adulti questi due bambini sanno che Giannino Stoppani c'è davvero e anche questo topos splendidamente messo in evidenza così da far fuori lei americana tutta la tradizione che le viene dall'Europa perché si comporta a modo suo mette al nonno la Redingot sistema la bambina con quelle scarpine che noi battezzarono alla bebè e che si chiamavano Little Lord von Thurway provenendo dagli Stati Uniti e facendo riferimento al piccolo Lord e tutto in questa splendida tavola a partire dalla rifinitura del cammino che è tutta fuorché nostra non avremmo mai un muratore di quell'epoca che mettesse un elemento giapponista come l'intercalare del mattone lungo e di quello corto stupenda a mio avviso è anche l'impenetrabile luce ottenuta col non dar sfumatura che fa diventare elemento di fiaba l'intera l'intera tavola e la abbiamo ancora più potentemente esibita e bisogna dire che nei volumi di storia dell'infanzia ce n'è stata una fioritura tra gli anni 70 80 alcuni anche piuttosto belli mancano però di questa notificazione a definire che l'infanzia esiste che ha una sua autonomia che pedagogicamente bisogna partire da questa constatazione perché altrimenti si fa un errore dopo l'altro quindi l'alterità bambina non sono i teorici neanche i più fini letterati ma sono i disegnatori indubbiamente questo bambino è più bambino tra 8 e 900 di quello che sarebbe il suo equivalente fotografico perché l'equivalente fotografico praticamente si mette in divisa e in posa mentre questo la disegnatrice l'ha proprio guardato in un angolo del focolare e lo ha riprodotto così come lo vedeva senza orpelli senza mistificazioni senza nulla e quindi oltre ad avere un vilore stilistico straordinario un'abilità da lasciare incantati ha anche una consapevolezza pedagogica di ampio respiro qui cambia tutto ma la notificazione della grandezza resta perché come si vede anche nella scrittrice che ho tentato di presentare questa sera se metti in evidenza fiabe infanze natura quasi sempre devi mettere in evidenza lei che ci vogliono pagine e pagine a farla così bene chi è propriamente da i guanti che non hanno le punte alla particolare cuffia all'idea di incontrare questa particolare natura elegante ma come si può vedere anche non priva di timori e di agguati qualche cosa che non si è più ripetuto un segnale di questo genere io spero sempre che lo ristampino ma non succede è in quel meraviglioso volume degli anni sessanta non a caso voluto da un genio della poesia come Attilio Bertolucci padre di due registi e a sua volta titolare di una rubrica di cinema sul quotidiano il giorno e Bertolucci è stato capace in poesia e in riflessione di definire quelli che lui chiamava i primi eroi e cioè come cominciò questo passaggio da un ottocento un po' livido un po' cupo troppo verniano a un primo novecento invece fastoro invece aureolato di tonalità giapponiste però non frequente perché ci vuole un'abilità solo a contrapporre quel prato a quelle nubi solo a farlo quel prato con quella definizione dell'erba che è posta liberty ed è legata agli auspici di un novecento che verrà fermato dalla guerra a partire dal novecento quattordici e dopo le avanguardie non avranno voglia di essere felici come lo si è in queste tavole e anche qui a partire dall'arrivo del reverendo ma bisogna anche sottolineare la ineffabile carica morandiana di questa stupefacente tavola perché tra grigi portentosi e ocra poco conosciuti qui andiamo in una zona che riverbera il maestro di via fondazza nel senso che è stata straordinariamente brava in studio ma poi mi immagino perché usava così è anche andata in tipografia a dire badate che il grigio del cappotto della bambina non è quello del tetto lassù e men che mai quello delle scorze degli alberi una splendida tavola anche questa capace di raccontare da sola di dire che tipo di infanzia c'era qual era la condizione infantile in quel momento in che ambiente si trovava a vivere come agiva come giocava come camminava osservare la particolarissima versione usa del Pierrot che non è il Pierrot Luner dei francesi non è il Pierrot Picassiano del periodo blu del sommo artista ma è un Pierrot che sa di grande circo Barnum di festosità ginica di voglia di viversela in una dimensione che supera il narrato del fiabesco e cerca un protagonismo e lo trova nella attonita complicità di questi bambini una tavola così richiede un trattato bisogna sapere moltissime cose sull'infanzia il circolo spettacolo la fine di un mondo perché col 14 il fatale serajevo questo non ci sarà più e tutto questo però è esistito e va storicizzato splendida la dimensione autentica della cucina trovo un fascino incredibile nell'essere precisi fino al modello di stufa che andava in quel momento e ai preziosi pezzi di legna opportunamente tagliati il piacere ricorrente di quei tappeti che abbiamo già visto e il pappagallo a dare un tono di fiaba e di stranezza e la perfetta mise della bambina con anche questo lato dietro che costruisse tutto lo spazio visivo della destra a dire della conoscenza degli ambienti della costruzione per cui siamo in una condizione da far intervenire il porcellino malgrado ci sia la novità della stufa e questo è come narrare non è solo illustrare e anche questo richiede tantissima attenzione è molto giapponista il colorismo delle assie di legno bella la trovata della terra in primo piano bello anche il fatto che lavino il cagnolino in quel modo tutto costruito con veridicità ma anche tutto annullato in una eleganza stilistica che lassia sempre attoniti una storia dell'infanzia vera e propria con una cadenza splendida nel mettere in evidenza tutto dalle tende che dovevano essere così ai cipressi che erano proprio lì ma non c'è realismo c'è stilismo l'infanzia borghese raccontata da questa illustratrice sfida la descrittività sociologica di quelli che invece sono rimasti nel generico noi abbiamo solo lei a dirci che l'infanzia americana a volte anche inglese era così ma di lei dobbiamo fidarci perché è dotata di una capacità stilistica incredibile da richiamare i maestri rinascimentali e può combattere su tutte le dimensioni ideative anche quelle un po' pericolose come questa è mostrata abbiamo in poche parole nel suo apparato illustrativo una fenomenologia del quotidiano dell'infanzia americana e un po' anche inglese immagino che attraverso le strette comunicazioni si contaminassero la vicenda tale da farci dire che andiamo sul sicuro nel ragguaglio storico pedagogico che possiamo ricavarne qui si entra in una dimensione ancora più complessa perché questa è la terribile bottega dello speciale certo ci sono già negozi quasi moderni quasi nostri ma le nonne preferiscono fidarsi dello speciale che fare medicina col mortaio e la fatale prima apparizione del trenino a molla che procederà a quello elettrico in una scansione storica della ludicità attenta con una precisione e una chiarezza di dettagli da restare sempre impressionati di nuovo un crown ma sempre in versione americana e questo è propriamente uno di quei topoi narrativi che ritroveremo non solo non solo in chaplin non solo in buster keaton ma tutto nel cinema che però deriva da lei perché anche se era una regina del disegno e della stampa fu moltissimo popolare ebbe successo davvero non sapremo ovviamente qual è il mistero ma Elisabeth Gauch ce ne ha forniti una gamma enorme plaudo all'anaffiatoio di legno è una lode in più che le do alla precisione storica dell'oggettistica che non lassia niente al caso così come plaudo all'apparizione di una claunerie da festa in costume con l'idea anche del fool del matto nella tradizione narrativa anglo-americana e sempre confortano stupiscono fanno pensare fanno riflettere perché perché sono autonome perché la narrativa qui non c'è arrivata a questa minuziosa capacità di dettaglio dal gattino ha le stoviglie dall'ornato quadrettato in ceramica alla finestra non c'è arrivata così che abbiamo un trattato di prima educazione o di narratologia in questa immagine e il marinaretto troppo cresciuto si vede che non toccano infatti le scarpe è un altro personaggio di questa quotidianità che nella sua fragranza stilistica nella precisione magica di quel cappello accetta anche un po' di follia e saranno sempre queste le immagini topiche della narrare e ricorderemo sempre quel fumo magicamente andante verso la camera intera o quello splendido mobilo e grigio così come si può transitare al misterioso mago la cui pentola non è facilmente visitabile e convive facilmente con la modernità di prima e questo è un topos fra i più belli che si possano vedere in una immaserie che riguarda l'Europa agli Stati Uniti il rapitore di bambini il pifferaio di Amelin da notare però che lei gli ha messo poveretto le scarpe giuste che non erano stivaloni era la miseria delle ciocce come da noi e tremenda la coppia dell'anno vecchio e dell'anno nuovo che qui non sai però dire se è una verità che è capitata lì o se è il simbolo che è diventato figura grazie per l'attenzione grazie